Qual è la materia della seconda prova scritta all'esame di Stato prevista dal tuo percorso di studi? Greco e latino. Scienze umane. Hai mai svolto una prova scritta di scienze umane? No. Sì. Cosa ti piace di più del tuo percorso di studi? Il liceo classico è la scuola che ti arricchisce come persona e come studente a partire dallo studio del greco e del latino che non solo ti aiutano a capire, a ragionare nell'esercizio di traduzione ma ti aiutano soprattutto a conoscere il mondo antico che a volte sembra molto vicino a noi, più di quanto si possa immaginare. Come ho detto io frequento il liceo classico con indirizzo psicologico sociale. È un indirizzo che arricchisce molto la mia formazione con lo studio delle scienze umane e voglio precisare che questo indirizzo non è più attivo tra virgolette da due anni. Infatti è stato sostituito con il liceo delle scienze umane. Il liceo delle scienze umane prevede lo studio di discipline umanistiche arricchite di ulteriori materie come latino, economia e diritto. Tutto ciò mi permetterà di avere uno sguardo più ampio sulla realtà circostante e mi permetterà di comprendere al meglio i fenomeni sociali attuali. Cosa consiglieresti all'altra studentessa? Ti consiglio di utilizzare le conoscenze e le competenze che ha preso durante il tuo percorso e di farne tesoro indipendentemente dalla scelta che farai dopo il liceo. Le scienze umane sicuramente ti permetteranno di costruire delle relazioni migliori e di conoscere la società circostante. Il percorso di studi seguito può sicuramente aiutarti a fare la scelta giusta. Ti auguro di concretizzare i tuoi sogni e di trasformare il tuo lavoro in una passione. Sei soddisfatta della tua scelta? Sì. Sì. Ciao Roberta!